Buongiorno e benvenuti a Mundoamoral.es Dante tra cristianesimo e islam Dante contempla l'empire o influenza fondamentale fu anche quella esercitata dalla produzione letteraria appartenente al cristianesimo e, in un certo grado, anche alla religione islamica. 137, la Bibbia è sicuramente il libro cui Dante attinge maggiormente. È chi ne troviamo, oltre ai tantissimi della Commedia, anche nella Vita Nova, per esempio. L'episodio della morte di Beatrice ricalca quello di Cristo sul Calvario, 138, e nel De Vulgari Eloquenzia, l'episodio della Torre di Babele quale origine delle lingue, presente nell'i-libro. Oltre alla produzione strettamente sacra, Dante attinse anche alla produzione religiosa medievale, prendendo spunto, per esempio, dalla Visio Sancti Paoli del V secolo. Opera narrante l'ascesa dell'Apostolo delle Genti al Terzo Cielo del Paradiso, 139. Oltre alle fonti letterarie cristiane, Dante sarebbe giunto in possesso. Sulla base di quanto ha scritto la filologa Maria Corti, del Libro della Scala, opera escatologica araba tradotta in castigliano, francese antico e latino, per conto del re Alfonso X, 139. 140. Un esempio concreto lo troviamo nel concetto islamico di Spirito della Vita, Ru Alaia, che è considerato come, aria, che esce dalla cavità del cuore. Dante a tal proposito scrive. Spirito della Vita. Lo quale dimora nella Secretissima Camera dello Cuore, 141. Lo storico spagnolo Asim Palacios ha espresso tutte le posizioni di Dante in merito alle sue conoscenze islamiche nel testo L'Escatologia Islamica nella Divina Commedia, 142. Il ruolo della filosofia nella produzione dantesca Aristotele, copia romana del 117-138 dopo Cristo circa come si è detto già nella parte biografica Dante, dopo la morte di Beatrice. Si immerse nello studio della filosofia. Dal convivio sappiamo che Dante aveva letto il De Consolazione Filosofa Ie di Boezio e il De Amicitia di Cicerone e che poi cominciò a prender parte alle dispute filosofiche che i due principali ordini religiosi, francescani e domenicani, pubblicamente o indirettamente tennero in Firenze. Gli uni spiegando la dottrina dei mistici e di San Bonaventura, gli altri presentando le teorie di San Tommaso d'Aquino. Il critico Bruno Nardi, 143, evidenzia i tratti salienti del pensiero filosofico dantesco che, pur avendo una base nel tomismo, presenta anche altri aspetti tra cui un evidente influsso del neoplatonismo, ad esempio dallo Pseudo Dionigi la reopagita nelle Gerarchie Angeliche del Paradiso, 144. Nonostante gli influssi di scuola platonica, Dante subì maggiormente l'influsso di Aristotele, che nella seconda metà del XIII secolo conobbe l'apogeo nell'Europa medievale. Aristotele nella produzione poetica La produzione poetica dantesca risentì di due opere aristoteliche in particolare, la fisica eletica nicomachea. La descrizione del mondo naturale da parte del filosofo di Stagira, accanto alla tradizione medica risalente a Galeno. Fu la fonte principale cui Dante e Cavalcanti attinsero per l'elaborazione della cosiddetta, Dottrina degli Spiriti. Attraverso i commenti redatti da Averroè, 145, e da Alberto Magno, 146. Dante affermò che il funzionamento del corpo umano fosse dovuto alla presenza di vari spiriti in determinati organi. Dai quali nascevano poi sentimenti corrispondenti allo stimolo proveniente dall'esterno. Alla presenza di Beatrice, tali spiriti entravano in subbuglio. Suscitando in Dante violente reazioni emotive e assumendo, come nel caso sottoriportato, anche una volontà propria, resa efficace attraverso la figura retorica della prosopopea. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima età de si convenia. In quello punto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella secretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente, che apparia negli menimi polsi orribilmente, e tremando disse queste parole. Ecce Deus fortior me. Qui veniens domina bitur mici. In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni. Si cominciò a maravigliare molto, e parlando specialmente agli spiriti del viso, si disse queste parole, apparut iam beatitudo vestra. In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole, eumizer, qui a frequente rimpeditus ero de inceps. Vita nova. Secondo, 3 a 6, Sandro Botticelli, La mappa dell'inferno, tra il 1480 e il 1490, Biblioteca Apostolica Vaticana. La divisione dell'inferno e degli altri due regni dell'oltretomba sono debitori dell'etica aristotelica ancor più significativa fu l'influenza di Aristotele all'interno della commedia. Dove si fece sentire la presenza del'etica nicomachea, oltre che della fisica. Da quest'ultima, Dante accolse la struttura cosmologica del creato, impianto profondamente debitore anche dell'astronomo egiziano Tolomeo, 147, adattandola poi alla fede cristiana, 146, dal'etica, invece. Prese spunto per l'ordinata e razionale organizzazione del suo mondo ultraterreno, suddividendolo in varie sottounità, gironi nell'inferno. Cornici nel purgatorio e cieli nel paradiso, dove porre determinate categorie di anime in base alle colpe, virtù commesse in vita, 148. Aristotele nella produzione socio-politica nell'ambito politico. Dante crede con Aristotele e San Tommaso d'Aquino che lo Stato abbia un fondamento razionale e naturale, basato su legami gerarchici in grado di dare stabilità e ordine interno. Nardi aggiunge poi che, pur riconoscendo che lo schema generale della sua metafisica è quello della scolastica cristiana, è certo che egli vi ha inserito taluni particolari caratteristici. Come la produzione mediata del mondo inferiore e quella intorno all'origine dell'anima umana risultante del concorso dell'atto creatore con l'opera della natura, 143. L'esoterismo dantesco diversi autori hanno trattato gli aspetti esoterici delle opere di Dante forse determinati dall'ormai accertata adesione alla setta dei fedeli d'amore. Lo schema e i contenuti stessi della Divina Commedia farebbero emergere chiari riferimenti. Sotto questo aspetto sono di notevole importanza il lavoro di Gwenon. L'esoterismo di Dante e il testo di Luigi Valli, Il linguaggio segreto di Dante e dei fedeli d'amore, 149, 150. L'eresia dantesca a partire dal XIX secolo diversi autori hanno sostenuto la tesi che Dante potesse essere stato un cristiano eretico. Tra questi Ugo Foscolo, 151. Gabriele Rossetti, 152. E Eugen Aru, 153. Più recentemente Maria Soresina ha avanzato l'ipotesi che fosse il catarismo l'eresia dantesca, 154. Opere Il fiore e detto d'amore Magnifying Glass Eye con MGX 2.S Vigi lo stesso argomento in dettaglio. Il fiore, poemetto, e detto d'amore. Due opere poetiche in volgare di argomento. Lessico e stile affini e collocate in un periodo cronologico che va dal 1283 al 1287, sono state attribuite con una certa sicurezza a Dante dalla critica novecentesca. Soprattutto a partire dal lavoro del filologo dantesco Gianfranco Contini, 4. Le rime Magnifying Glass Eye con MGX 2.S Vigi lo stesso argomento in dettaglio. Le rime. Dante Gabriel Rossetti, Beata Beatrix. Dipinto a olio. 1872. Chicago Art Institute. Le rime sono una raccolta messa insieme e ordinata da moderni editori. Che riunisce il complesso della produzione lirica dantesca dalle prove giovanili a quelle dell'età matura. Le prime sono datate intorno al 1284, 92, divise tra rime giovanili e rime dell'esilio per. Distinguere due gruppi di liriche assai distanti per il tono e gli argomenti affrontati. Le rime giovanili comprendono componimenti che riflettono le varie tendenze della lirica cortese del tempo, quella guittoniana, quella guinizelliana e quella cavalcantiana. Passando da tematiche amorose a giocose tenzoni dallo sfondo velatamente erotico giocoso con Forese Donati e con Dante Damagliano. Vita Nova Magnifying Glass Eye con MGX 2.S Vigi lo stesso argomento in dettaglio, Vita Nuova. La Vita Nova può essere considerata il romanzo autobiografico di Dante, in cui si celebra l'amore per Beatrice. Presentata con tutte le caratteristiche proprie dello stil novismo dantesco. Racconto della vita spirituale e della evoluzione poetica del poeta, resa come exemplum. La Vita Nova è un prosimetro, brano caratterizzato dall'alternanza tra prosa e versi, e risulta strutturata in 42, o 31, 155, capitoli in prosa collegati in una storia omogenea. Che spiega una serie di testi poetici composti in tempi differenti. Tra cui hanno particolare rilevanza la canzone Manifesto Donne che avete intelletto d'amore e il celebre sonetto tanto gentile e tanto onesta pare. Secondo buona parte degli studiosi. Per la forma del prosimetro, Dante si sarebbe ispirato alle rasos provenzali, ovvero le ragioni, che servivano a spiegare le ragioni da cui scaturivano le liriche. E alla deconsolazione filosofa Iè di Severino Boezio, 120. L'opera è consacrata all'amore per Beatrice e fu composta probabilmente tra il 1292 e il 1293, 120. La composizione delle rime si può far risalire, secondo la cronologia che Dante fornisce, tra il 1283 come risulta dal sonetto a ciascuna alma presa e dopo il giugno del 1291. Anniversario della morte di Beatrice. Per stabilire con una certa sicurezza la data della composizione del libro nel suo insieme organico, ultimamente la critica è propensa ad avvalersi del 1300. Ata non superabile, che corrisponde alla morte del destinatario Guido Cavalcanti, questo mio primo amico a cui io ciò scrivo, Vita Nova, XXX, 3. Quest'opera ha avuto una particolare fortuna negli Stati Uniti, dove fu tradotta dal filosofo e letterato Ralph Waldo Emerson, 156. Convivio Magnifying Glass Icon Mgx 2.S Vigilostesso argomento in dettaglio, Convivio. Monumento a Dante in Piazza Santa Croce a Firenze, 1865, Il Convivio. Scritta tra il 1303 e il 1308, 157, dal latino Convivium. Ovvero, Banchetto, di Sapienza. È la prima delle opere di Dante scritta subito dopo il forzato allontanamento di Firenze ed è il grande manifesto del fine civile, che la letteratura deve avere nel consorzio umano. L'opera consiste in un commento a varie canzoni dottrinali poste all'Incipit. Una vera e propria enciclopedia dei saperi più importanti per coloro che vogliano dedicarsi all'attività pubblica e civile senza aver compiuto gli studi regolari, 120. È pertanto scritta in volgare per essere appunto capita da chi non ha avuto la possibilità in precedenza di studiare il latino. L'Incipit del Convivio fa capire chiaramente che l'autore è un grande conoscitore e seguace di Aristotele. Questi, infatti, viene citato con il termine, lo filosofo, 158. L'Incipit in questo caso spiega a chi è rivolta quest'opera e a chi non è rivolta. Soltanto coloro che non hanno potuto conoscere la scienza dovrebbero accedervi. Questi sono stati impediti da due tipi di ragioni. Interne, malformazioni fisiche, vizi e malizia. Esterne, cura familiare, civile e difetto di luogo di nascita. Dante ritiene beati i pochi che possono partecipare alla mensa della scienza, dove si mangia il pane degli angeli, e miseri coloro che si accontentano di mangiare il cibo delle pecore. Dante non siede alla mensa, ma è fuggito da coloro che mangiano il pastume e ha raccolto quello che cade dalla mensa degli eletti per crearne un altro banchetto. L'autore allestirà un banchetto e servirà una vivanda, i componimenti inversi, accompagnata dal pane, la prosa, necessario per assimilarne l'essenza. Saranno invitati a sedersi solo coloro che erano stati impediti da cura familiare e civile, mentre i pigri sarebbero stati ai loro piedi per raccogliere le briciole. 159. De vulgari eloquenzia magnifying glass icon mgx2.svg lo stesso argomento in dettaglio, de vulgari eloquenzia. Una copia del 1577 del de vulgari eloquenzia contemporaneo al convivio. Il de vulgari eloquenzia è un trattato in latino scritto da Dante tra il 1303 e il 1304, 160. Composto da un primo libro intero e da 14 capitoli del secondo libro. Era inizialmente destinato a comprendere quattro libri. Pur affrontando il tema della lingua volgare. Fu scritto in latino perché gli interlocutori a cui Dante si rivolse appartenevano all'elite culturale del tempo. Che forte della tradizione della letteratura classica riteneva il latino senz'altro superiore a qualsiasi volgare. Ma anche per conferire alla lingua volgare una maggior dignità. Il latino era infatti usato soltanto per scrivere di legge, religione e trattati internazionali, cioè argomenti della massima importanza. Dante si lanciò in un'appassionata difesa del volgare. Dicendo che meritava di diventare una lingua illustre in grado di competere se non uguagliare la lingua di Virgilio. Sostenendo però che per diventare una lingua in grado di trattare argomenti importanti il volgare doveva essere, 161. Illustre. In quanto luminoso e quindi capace di dare lustro a chi ne fa uso nello scritto, cardinale, tale che intorno a esso ruotassero come una porta intorno al cardine, i volgari regionali. Aulico. Reso nobile dal suo uso dotto, tale da esser parlato nella reggia, curiale, come linguaggio delle corti italiane, e da essere adoperato negli atti politici di un sovrano. Con tali termini intendeva l'assoluta dignità del volgare anche come lingua letteraria, non più come lingua esclusivamente popolare. Dopo avere ammesso la grande dignità del siciliano illustre. La prima lingua letteraria assunta a dignità nazionale, passa in rassegna a tutti gli altri volgari italiani trovando nell'uno alcune. Nell'altro altre delle qualità che sommate dovrebbero costituire la lingua italiana. Dante vede nell'italiano la pantera redolens dei bestiari medievali. Animale che attrae la sua preda. Qui lo scrittore, con il suo irresistibile profumo. Che Dante sente in tutti i volgari regionali, e in particolare nel siciliano. Senza però riuscire mai a vederla materializzarsi, 162, manca in effetti ancora una lingua italiana utilizzabile in tutti i suoi registri, da tutti gli strati della popolazione della penisola italica. Per farla riapparire era dunque necessario attingere alle opere dei letterati italiani finora apparsi, cercando così di delineare un canone linguistico e letterario comune, 163.